Secondo giorno di consultazioni per il Presidente della Camera Fico, incaricato dal Quirinale di esplorare fino a martedì le condizioni per un conteter. Italia viva a Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, e l'EU d'accordo nel chiedere un patto scritto sul programma. Meglio un governo politico, dice Renzi, che lascia comunque margini all'ipotesi istituzionale. Dal centro-destra, il leader di Forza Italia Berlusconi invoca un esecutivo di alto profilo che riunisca tutte le forze migliori del paese. Poco importa chi lo guiderà, dice. Sulle posizioni degli alleati Salvini e Meloni spiega li rispettiamo ma non ci facciamo dettare la linea da nessuno. Il leader di Fratelli d'Italia rilancia intanto la scelta del voto come soluzione più responsabile per uscire dalla crisi. Nella campagna vaccinale troppa improvvisazione. Se vogliamo battere questo virus non possiamo permetterci altri errori. A lanciare l'allarme è il coordinatore del comitato scientifico Agostino Mio, Nello studio dell'Istituto Superiore di Sanità la fotografia della pandemia in Italia. Il 66% delle vittime presenta tre o più patologie pregresse. L'età media dei decessi è di 81 anni. Domani intanto gran parte del paese torna in giallo. La polizia croata ha impedito a quattro parlamentari europei di ispezionare il campo profughi al confine con la Bosnia dove migliaia di richiedenti asilo e rifugiati tra cui molti minori vivono in condizioni disperate. Il sospetto è che la polizia voglia nascondere qualcosa ma non ci fermeremo dicono gli eurodeputati Benifei, Moretti, Maiorino e Bartolo decisi a verificare le denunce delle organizzazioni umanitarie. Un minuto di silenzio denso di commozione ha concluso la cerimonia in ricordo delle vittime della Shoah al binario 21 della stazione di Milano dove il 30 gennaio del 44 anche l'allora tredicenne Liliana Segre venne fatta salire su un treno diretto al campo di Auschwitz. Rivivo il terrore, risento i pianti e la disperazione di quanti con me furono sigillati in quei vagoni. Ha detto la senatrice a vita che ha citato Primo Levi condannando ancora una volta l'indifferenza che è già violenza. Resta immutato il vertice della Serie A dopo gli anticipi del sabato il Milan mantiene i due punti di vantaggio sull'Inter la Juventus sale al terzo posto superando la Roma che oggi però ancora senza Dzeko potrebbe tornare a terza battendo il Verona. Dopo la Coppa Italia tornano a sfidarsi Atalanta e Lazio. Il Napoli ospita il Parma. Buongiorno e benvenuti al Telegiornale della Sette innanzitutto buona domenica. Allora continuano le consultazioni del Presidente della Camera Roberto Fico che martedì prossimo dovrà nuovamente salire al colle per riferire al Capo dello Stato che gli ha conferito l'incarico esplorativo. Per il momento il perimetro su cui si lavora è quello della maggioranza esistente e dunque si verifica se ci sia la possibilità di un Conte Eterno dunque di un governo politico nuovamente con la Presidenza del Consiglio Giuseppe Conte. Secondo giorno di incontri per il Presidente della Camera Roberto Fico incaricato dal Quirinale ad esplorare progetti e ambizioni delle forze politiche che potrebbero dar vita a un Conte Eterno. Mentre passano in rassegna le ultime rappresentanze dei gruppi misti oltre al nascente gruppo dei responsabili nato proprio per supportare Giuseppe Conte si pensa a quanto è accaduto ieri e soprattutto a quanto accadrà da qui a martedì termine di chiusura del mandato esplorativo. Ieri le delegazioni di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva e l'EU hanno tutte ribadito la necessità di un patto scritto un contratto per mettere nero su bianco cosa fare e in quali tempi nel nuovo esecutivo. Ma al di là degli intenti ci sono i tatticismi e le manovre che guardano già al domani alle scelte del Presidente Fico che dovrebbe avere un nuovo rapido giro di incontri con i partiti prima di salire al Quirinale. Nel Movimento i contrari al patto con Renzi Alessandro Di Battista e Nicola Morra su Facebook mantengono il punto e attaccano l'ex premier il primo ripromonendo un articolo sulla revoga delle concessioni ad autostrade e le perplessità di Renzi il secondo con un post che citando Prezzolini esorta a condannare il culto della furbizia e ha un maggior coraggio. Chiaro messaggio ai vertici del Movimento mentre Luigi Di Maio, sempre su Facebook, scrive serve un esecutivo forte mentre noi agli occhi del mondo appariamo deboli. Rousseau in questa scelta non serve meglio passare per i parlamentari abbiamo ricevuto una delega dai cittadini per fare quello che facciamo bisogna fidarsi dice Giorgio Trizzino in risposta a Barbara Lezzi altra esponente contraria a Renzi e che ha invocato il suffraggio sulla piattaforma. Matteo Renzi mantiene la sua posizione ribadita oggi in un'intervista al Corriere della Sera spazio al tentativo di un esecutivo politico in sintesi prima i temi e poi le persone che lascia però margine a un governo istituzionale che per molti sarebbe la vera ambizione del leader d'Italia Viva o Conte Premier o voto a giugno è la posizione di Goffredo Bettini esponente del PD e uomo forte dell'Alleanza PD 5 Stelle sempre sul Corriere sull'ipotesi di un governissimo con dentro l'ex numero uno della BCE Mario Draghi dal Quirinale si smentisce la notizia apparsa oggi su alcuni giornali che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo abbia già contattato. Ecco allora vediamo le immagini della Camera dei Deputati ecco vedete c'è in questo momento sta parlando Alessandro Fusacchia di Più Europa dunque queste sono le delegazioni che si sono recate oggi a parlare con il Presidente della Camera Roberto Fico si sta cercando appunto di capire quale sia il perimetro su cui agire per la risoluzione della crisi di governo. Ora veniamo alle opposizioni al centro-destra neanche per Silvio Berlusconi le elezioni sono una giusta ipotesi in questo momento Silvio Berlusconi chiede evoca un governo di alto profilo un governo politico diversa la posizione invece dei suoi alleati Matteo Salvini in primis ma anche Giorgia Meloni che è invece abbastanza categorica sul fatto che l'unica soluzione possibile siano le elezioni in ritorno al voto Il voto è la soluzione più responsabile per uscire dalla crisi e il fatto che il capo dello Stato abbia affidato a Roberto Fico il mandato esplorativo non significa che le elezioni siano state archiviate Giorgia Meloni non molla è stata una scelta politica di Mattarella spiega la leader di Fratelli d'Italia alla Repubblica dove spara a zero sull'esplorazione di Fico per tentare di rimettere in piedi un nuovo governo con la stessa maggioranza dopo aver perso due mesi in liti trattative e compravendite sarebbe un bieco gioco di palazzo e di poltrone attacca Meloni sempre più convinta che questo Parlamento non ha i numeri necessari per una soluzione efficace niente da fare anche con l'ipotesi di un governo istituzionale caldeggiato invece da una parte della coalizione vedi Forza Italia e cambiamo di Giovanni Totti Silvio Berlusconi invoca un esecutivo di alto profilo che riunisca tutte le forze migliori del paese e che accantoni conflitti ed interessi di parte per risolvere la crisi profonda in cui versa l'Italia e poco importa chi guiderà l'esecutivo dice il leader azzurro l'importante è che si cambi strada come chiede il centrodestra che si muove unito pur nelle diverse sensibilità aspetto che Berlusconi tiene a sottolineare nessuno in Forza Italia si fa dettare la linea da altri che non siano la nostra coscienza i nostri valori e la nostra storia e la storia di Forza Italia è quella di un partito liberale moderato europeista e disponibile ad un governo di salvezza nazionale come ha detto la vicepresidente della Camera Mara Garfagna che ha fatto anche il nome dell'ex presidente della BCE Mario Draghi come possibile premier ma i distingui restano anche fra i partiti sovranisti nella Lega Matteo Salvini come Meloni reputa una perdita di tempo il mandato esplorativo affidato a Fico ed insiste su un esecutivo di centrodestra nel caso il tentativo del presidente della Camera dovesse fallire ma contrariamente a quanto sostiene la leader di Fratelli d'Italia cioè che il Parlamento non ha i numeri neppure per un governo a guida centrodestra da qui la richiesta di elezioni anticipate Salvini osserva che in aiuto alla coalizione potrebbero arrivare i voti dei tanti scontenti che adesso animano il fronte giallorosso fare presto per trovare una soluzione il più condivisa possibile è stata la richiesta del presidente della Repubblica Mattarella alle forze politiche perché il paese ha bisogno di un esecutivo di alto profilo per far fronte ad una sfida senza precedenti che si continua a chiamare lotta al covid i numeri che sono stati diffusi oggi dall'Istituto Superiore della Sanità parlano molto chiaro quasi 50.000 morti la seconda ondata della pandemia ha superato di gran lunga la prima quando i decessi per il coronavirus furono poco più di 34.000 il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità aggiornato al 27 di gennaio disegna le caratteristiche delle persone uccise dal virus ma anche la distribuzione tra le regioni e se da marzo a giugno il covid ha colpito di più al nord con il 47% delle vittime totali solo in Lombardia da ottobre questa percentuale è scesa al 19,7% dopo la Lombardia Veneto Emilia Romagna Piemonte e Lazio hanno avuto più decessi 81 anni l'età delle vittime mentre sono stati in 941 l'1,1% quelle sotto i 50 anni 234 avevano meno di 40 di questi ultimi 147 avevano gravi patologie degli altri o non si hanno informazioni cliniche oppure non erano state diagnosticate gravi malattie il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità evidenzia come il covid abbia colpito soprattutto le persone sopra gli 80 anni e quelle con patologie categorie che dovrebbero essere vaccinate dopo i ritardi nelle consegne desieri a partire da metà febbraio una volta terminato i richiami per i medici operatori sanitari e ospiti delle RSA se vogliamo battere questo virus non possiamo permetterci altri errori rischiamo di pagarli a caro prezzo è la fondo del coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo che dalle pagine del Corriere della Sera sottolinea la poca preparazione del territorio nell'affrontare la campagna vaccinale vedo disordine cattiva gestione del processo i furbi del vaccino la scarsa informazione la poca comunicazione dedicata a fasce diverse della popolazione dice Miozzo che invita a utilizzare per le vaccinazioni la protezione civile i militari e le forze dell'ordine per chi hanno capacità logistica e presenza capillare nel territorio questa mattina a pratica di mare sono arrivate 66.000 dosi del vaccino Moderna che saranno distribuite in tutte le regioni siero che insieme a quello della Pfizer e BioNTech sarà usato per gli anziani e i fragili non sarà così invece per il vaccino AstraZeneca che come ha raccomandato l'AIFA deve essere utilizzato per tutti i maggiorenni fino ai 55 anni solo per loro se hanno informazioni certe sulla immunizzazione zona gialla dunque continuano a ripetere i medici e il ministro della salute e speranza che non significa affatto scampato pericolo bisogna infatti continuare a mantenere le misure finora attuate ovvero il distanziamento sociale il lavaggio frequente ed accurato delle mani l'utilizzo della mascherina soprattutto a partire dalla giornata di domani quando l'Italia appunto sarà colorata di questo colore che significa un minore pericolo di contagio da domani infatti sarà molto superiore il numero degli esercizi commerciali aperti e dei ragazzi sui banchi di scuola il TAR della Sardegna ha chiesto al ministero della salute chiarimenti sulla decisione di lasciare la regione in zona arancione dati e memorie da consegnare entro domani alle 15 un punto a favore del presidente Solinas che aveva da subito giudicato la Sardegna arancione come un nuovo insopportabile atto di prevaricazione da parte del governo ma non tutti gli altri governatori hanno reagito così anzi c'è chi come il presidente Musumeci a metà gennaio aveva chiesto di inserire la Sicilia in zona rossa ed ora dice abbiamo avuto ragione le due settimane rosse ci hanno consentito di ridurre i contagi e decessi e passare in arancione è chiaro che la zona ragione non è il massimo noi puntiamo alla zona gialla e perché no alla fine a quella bianca ma dipende da tutti dipende dalla responsabilità di ciascuno e di tutti prudenza è la parola d'ordine anche per la scuola Musumeci ha disposto il rientro graduale degli studenti domani tocca ai ragazzi di seconda e terza media mentre quelli delle superiori aspetteranno un'altra settimana per rientrare in presenza al 50% anche Michele Emiliano è ben felice che la Puglia resti in arancione anzi avrebbe preferito che la cartina italiana fosse meno gialla sarebbe stato più sicuro sostiene in Puglia da domani scuole superiori aperte con presenza al 50% ma saranno le famiglie a decidere se mandare in classe i ragazzi o continuare con la DAD la presidente dell'Umbria Tesei oggi ha convocato una riunione con i sindaci per decidere ulteriori restrizioni la regione secondo l'ultimo monitoraggio è quella più alto rischio e la governatrice pensa anche a distituire zone rosse dove ci sono più contagi zona gialla non significa scampato pericolo serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro ha sottolineato il ministro Speranza da domani infatti la gran parte dell'Italia sarà a rischio basso ma già le immagini del sabato sera in alcune grandi città hanno creato preoccupazione scene già viste ma che in previsione della riapertura anche di bar e ristoranti mettono in allarme parte parte dunque domani la lotteria degli scontrini non senza polemiche il provvedimento come già il cashback ha come obiettivo incentivare l'utilizzo della moneta elettronica e la lotta contro l'evasione fiscale se ne parla da anni parte domani dopo una serie di rinvii ma le associazioni di categoria ancora protestano come il cashback anche la lotteria degli scontrini nasce tra le polemiche il meccanismo in realtà visto dalla parte del consumatore è molto più semplice del cashback basta andare sul portale lotteria degli scontrini .gov.it in tre clic si genera il proprio codice per partecipare e poi basterà mostrarlo all'esercente stampato o caricato sullo smartphone all'atto di pagare per entrare in gara purché si paghi in modalità cashless cioè tracciabile con premi sicuramente molto appetibili mensili si comincia dal prossimo 11 marzo 10 estrazioni da 100.000 euro l'una per i clienti 10 da 20.000 per i negozianti settimanali si comincia dal prossimo giugno 15 premi da 25.000 euro l'uno per i clienti 15 da 5.000 l'uno per i negozianti annuale scatterà all'inizio del prossimo anno per tutti gli scontrini emessi da domani al 31 dicembre 2021 e consisterà in un super premio da 5 milioni per il cliente e da 1 milione per l'esercente certo però sarà indispensabile che il negoziante si sia adeguato dotandosi di un registratore di cassa in grado di trasmettere telematicamente gli scontrini all'agenzia delle entrate è un obbligo per il quale è stata concessa ancora un'altra proroga fino al prossimo primo aprile ma le associazioni di categoria come detto protestano confesercenti ieri e confcommercio oggi sostengono che i negozi specie i piccoli non sono pronti uno su due non si sarebbe ancora messo in regola tirando in ballo anche il covid in zona rossa dicono ad esempio i negozi sono stati chiusi ma oggi in zona rossa non c'è più nessuno per fortuna un buon segnale anche se per il centro studi di confindustria la ripresa italiana rischia di essere più lenta del previsto un forte rimbalzo è atteso solo dal terzo trimestre dell'anno anche più forte del previsto se le vaccinazioni daranno il loro contributo e la ripresa dei consumi libererà le risorse accumulate con risparmio forzato di questi mesi in ogni caso dicono gli esperti dell'associazione degli industriali la flessione stimata per fine 2020 e la debolezza attuale fanno già rivedere al ribasso la crescita complessiva per quest'anno chissà che la lotteria degli scontrini sfruttando la febbre degli italiani per il gioco non contribuisca appunto a rilanciare i consumi ora le notizie le immagini che arrivano dalla Russia perché da quando il dissidente più importante è ritornato in patria per essere prontamente arrestato stiamo parlando di Alexei Navanni monta la protesta popolare contro Putin cresce la protesta innegabile con lei aumentano fermi arresti di polizia a Mosca come a San Pietroburgo Vladivostok e Katerinburg Novosibirsk dal paese più grande del mondo insomma arrivano immagini in fotocopia lo scontro nella neve con gli agenti più famosi e duri delle forze antisommossa russe su tutti gli Omon forza speciale e accanto a loro in divisa color nocciolo la Guardia Nazionale a metà mattina erano almeno 1500 le persone bloccate e portate via dalla strada poco fa anche la moglie di Alexei Navalny è stata nuovamente fermata mentre si recava nella prigione dove è detenuto suo marito un'attività frenetica l'ordine del Cremlino sembra essere arrestateli tutti impossibile perché il numero di cittadini russi che hanno scelto di protestare contro Vladimir Putin e di suo governo del paese cresce di raduno in raduno poco fa la polizia ha chiuso la metropolitana di Mosca e di fatto blindato il centro della capitale scontri anche a San Pietroburgo molti i cronisti fermati in queste ore cresce comunque il numero delle città in subbuglio per la vicenda Navalny per il destino di una ribellione che a Mosca inizia evidentemente a preoccupare più che nelle ultime settimane uno stato di agitazione apparentemente snobbato dal Cremlino che non registra però ralentamenti le cronache degli ultimi giorni disegnano infatti un paese toccato più che in passato dalle vicende che vedono protagoniste il 44enne leader dell'opposizione e del suo movimento anticorruzione che tanto infastidisce più di una stanza all'interno del vecchio Cremlino oltre all'arresto dello scorso 17 gennaio di ritorno dalla convalescenza in Germania un altro cavallo di battaglia della protesta russa e il cosiddetto castello di Putin costruzione di gusto opinabile disegnata dall'italiano Lanfranco Cirillo Navalny sostiene sia opera voluta dal presidente Putin e realizzata rubando soldi alla popolazione per l'esattezza un miliardo di euro in soccorso del presidente è arrivato però nelle ultime ore un amico oligarca che sostiene l'assoluta estranità di Putin dalla vicenda del castello mentre la protesta non diminuisce dal fronte Navalny arrivano nuove rivelazioni e ammissioni sul tentato avvelenamento di cui rimase vittima documenti che vengono considerati carta straccia in 35 città del paese più grande del mondo non tutti la pensano così e queste immagini sembrano confermarlo a proposito di diritti civili negati c'è la delegazione italiana di alcuni eurodeputati del PD che è stata bloccata al confine tra la Bosnia e la Croazia dove si era recata per vedere con i propri occhi il dramma dei profughi la tragica vicenda delle migliaia di richiedenti asilo e rifugiati che sono bloccati al confine tra Bosnia e Serbia nel gelido inverno dei Balcani si complica anche con una crisi diplomatica deputati europei bloccati da un paese europeo non era mai capitato in passato protagonisti 4 eurodeputati italiani in missione per visitare i campi profughi noi volevamo noi volevamo verificare quelle che sono le condizioni con cui si devono misurare molti migranti in questo periodo che tentano di attraversare nell'altro senso cioè proveniente dalla Bosnia quel confine e ci è stato impedito dalla polizia croata di arrivare sul posto siamo stati fermati diversi metri prima con un dispiegamento di forze di polizia veramente incredibile evidentemente c'era qualcosa da nascondere quel che è certo è che siamo di fronte a una tragedia umanitaria sovraffollamento violenze feroci e abusi sono stati denunciati dalle organizzazioni umanitarie a cui si aggiunge l'intolleranza crescente da parte dei residenti centinaia di persone tra cui numerosi bambini sono rimaste senza alloggio al freddo una condizione resa ancora più tragica dopo l'incendio avvenuto a dicembre nel campo profughi di Lipa quel che resta del campo è stato visitato poche ore fa dalla delegazione ci sono centinaia di persone ammassate in pochissime tende in condizioni davvero sconcertanti siamo veramente davanti a persone che vivono in questo momento in mezzo alla neve che tentano di superare il confine bosniaco venendo respinti dalla Croazia ma bisogna dire venendo spesso respinti anche dall'Italia l'Unione Europea ha superato la convenzione di Dublino per evitare che il peso delle migrazioni fosse tutto sui paesi di primo approdo Italia Spagna Grecia in primis ma ora paga un paese come la Bosnia affinché trattenga sul suo territorio i profughi che poi fa vivere in condizioni atroci Penso che c'è un problema che riguarda Sarajevo che evidentemente non gestisce in maniera chiara spesso le risorse c'è il problema di una Europa nella quale l'assenza di una vera cooperazione tra tutti crea questa situazione che poi porta le persone a vivere in condizioni terrificanti credo che il Parlamento europeo debba far sentire sempre di più molto nettamente un'altra voce Un dramma quello dei migranti su cui si sofferma molto spesso la senatrice a vita Liliana Segre che anche oggi non ha mancato l'appuntamento con la memoria Dov'ero il 31 gennaio 1944 con i miei 13 anni io ero nel treno e il treno quel giorno dopo essere partito il 30 da qui aveva passato il confine La paura di superare quel confine il coraggio di tornare ogni volta qui dove tutto è iniziato e molto è finito Liliana Segre con i suoi 90 anni considera un dovere finché sono viva dice tornare al binario 21 della stazione centrale di Milano oggi sede del memoriale della Shoah su uno di questi vagoni partì per Auschwitz con 605 deportati nell'indifferenza di tutti fu una delle poche a ritornare Nell'indifferenza generale che fu veramente un silenzio colpevole un silenzio indimenticabile nella sua indifferenza La senatrice si sta battendo ha fatto un'interrogazione parlamentare perché vengano vaccinati subito contro il covid i detenuti Io sono stata a San Vittore 40 giorni so come si sta nelle celle anche se adesso sono rinnovate sicuramente tutte diverse da quelle che ho vissuto io con mio papà in quella cella indimenticabile come siamo arrivati qui ma chi eravamo eravamo vitelli che andavano a qualche mattatoio eravamo merci eravamo già pezzi quegli stucchi che poi siamo diventati senza saperlo furono proprio i detenuti di San Vittore gli ultimi a salutare lei insieme al padre agli altri ebrei prima che venissero portati in stazione ci hanno fatto sentire ancora persone dice in questa giornata come ogni anno organizzata qui dalla comunità di Sant'Egidio che chiude le commemorazioni della memoria il sottofondo di questo luogo importante il rumore dei treni che passano osserva la senatrice che come fa spesso conclude con un messaggio ai giovani il testimone della memoria passa a loro e lei non smette di ricordarlo i ragazzi gli adolescenti per i quali ci si preoccupa tanto è che in realtà sono fortissimi gli adolescenti sono fortissimi e possono cambiare il destino loro e quello dei loro genitori spesso deboli e incapaci di educarli difficile passaggio al campionato di calcio in ogni caso oggi c'è la prima giornata di ritorno ieri vittorie per le tre big impegnate Milan-Inter e Juventus oggi le risposte attese della Roma e delle altre inseguitrici il fine che giustifica i mezzi ben si adatta al Milan visto ieri a Bologna bello per un tempo ma vincente solo grazie a due calci di rigore il primo dei quali contestato fortemente dai padroni di casa la differenza l'hanno fatta invece gli incaricati dal dischetto con Ante Rebic che ha dato una mano a Zlatan Ibrahimovic ribattendo in gol il tiro che Skorupski era riuscito a respingere allo svedese infallibile invece che sia inizio ripresa la sua trasformazione permette al Milan di mantenere l'esiduo vantaggio di due lunghezze sull'Inter nel poker di reti rifilato al Benevento dai nerazzurri c'è da sottolineare la doppietta grazie alla quale Romelu Lukaku insidia ora una sola lunghezza il leader della classifica marcatori cristiano Ronaldo il portoghese è rimasto all'asciutto nella sfida di Marassi con la Sam ha dato però il via all'azione che ha fruttato l'1-0 di Federico Chiesa nel successo blindato poi in pieno recupero da Aaron Ramsey e che pone momentaneamente i bianconeri solitari al terzo posto in attesa che stasera la Roma risponda nel posticipo casaringo contro il Verona miglior difesa del campionato vigilia agitata in casa giallorossa col tecnico Fonseca che recupera Mkhitaryan ma dribbla il caso Dzeko ancora irrisolto io capisco la vostra curiosità ma è un tema che io non voglio parlare adesso vediamo la prossima settimana sempre in chiave i Champions grande attesa per la sfida tra Atalanta e Lazio che tornano ad affrontarsi a soli quattro giorni dal match di Coppa Italia che ha visto i Bergamaschi qualificarsi per la semifinale qualche problema di formazione per Gasperini con gli esterni Atebure e Sutalo infortunati e Gosens squalificato mentre Simone Inzaghi recupera Luisa Alberto reduce dall'operazione di appendicite e riproporrà in attacco la coppia immobile Correa alle 18 sarà poi la volta del Napoli che vuole riscattare il passo falso di Verona affrontando il Parma penultimo in classifica Rino Gattuso perne ancora una volta Dries Mertens volato in Belgio per curare la caviglia malandata punti importantissimi in palio nelle altre tre sfide in programma Spezia Udinese ora in campo Cagliari Sassuolo e Crotone Genoa ecco Spezia Udinese due squadre attualmente in campo al momento il risultato è di 1-0 per l'Udinese ora in Brasile per dar conto della vittoria del Palmeiras opposto al Santos nella finale della Coppa Libertadores la Champions League sudamericana il trionfo della squadra di San Paolo è stato festeggiato come vedete in queste immagini in maniera particolarmente entusiasta durante l'intervista dell'allenatore Abel Ferreira la sala stampa è stata invasa dai giocatori che hanno scaricato due ghiacciai sul capo del loro tecnico la vittoria ha purtroppo scatenato anche la tifoseria biancoverde che inottata ha invaso le strade di San Paolo in violazione di tutti i protocolli anti-covid scortando il pullman della squadra appena arrivata da Rio de Janeiro ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità al ritorno vedremo se ci sono aggiornamenti a tra poco eccoci di nuovo qui allora non ci sono aggiornamenti importanti delle notizie dunque a me non resta che salutarvi il nostro telegiornale ritorna alle 20 grazie ancora arrivederci